Oggi qua la Sandro Cane per il sociale, siamo qua al festival scolzese a Bussolengo sono da Uncle Bard Band ho preso un risotto col tasto a torsaglia e Guinness qua uno splendido stinco intero con patatine fritte, maionese e ketchup e qua abbiamo una splendida Greenness e una splendida Newcastle il prezzo è un po' altino, speso meno a fiamme, ma può andare le birre 8 euro, vabbè le birre e il risotto 8 euro, non finco 11 sentiamo il risotto, un attimo il tasto a sale e guisness incredibile, è al dente bene dai allora, un risotto al tasto a sale non percepisco la Guinness però va bene, è buono poi facciamo il video dello stinco e adesso ci sentiamo uno splendido Guinness è la spina, buona sentiamo la Newcastle che ha appena cambiato il fusto buona, benissimo ci vediamo al prossimo video e poi sonneranno una band di musica celtica benissimo Scottish Birati organizza un nuovo evento ci vediamo al prossimo video ciao ciao